Dopo quattro mesi che la uso e dopo qualche centinaio, e quando dico centinaio dico qualche centinaio di fotografie scattate con questa macchina, credo che sia giunto il momento di parlarvi, di farvi una bella recensione a ragion veduta, avendola usata parecchio, della Polaroid i2. La Polaroid i2, la nuova Polaroid, quella che costa così tanto, costa quasi 700 euro e ha delle caratteristiche inusuali per le Polaroid contemporanee, cioè quelle prodotte dalla nuova Polaroid e che effettivamente si discosta parecchio sia dallo spirito che dalle intenzioni rispetto a macchine, come per esempio la Polaroid Now Plus, che fino a ieri è stata la mia Polaroid contemporanea preferita, o rispetto per esempio si avvicina invece, più che altro si avvicina da un punto di vista filosofico a quella che può essere una SX-70, pur con tutte le differenze del caso naturalmente, considerando il fatto che questa è una reflex, mentre quest'altra fotocamera non è assolutamente una reflex ma ha un mirino galileano. Ma diciamo che quello che si può fare con la i2 è assolutamente paragonabile, se non superiore, anzi è superiore a quello che ho sempre potuto fare con la mia adorata SX-70. In questa recensione, in questa chiacchierata sulla Polaroid i2, vi voglio portare le mie impressioni, i difetti, le cose belle, le cose meno belle che ho trovato nell'utilizzarla praticamente tutte le settimane per tanto tempo. Voglio paragonarla un pochino alla SX-70 come feeling, come resa e poi vi farò vedere molte fotografie, di modo che vi possiate rendere conto di quello che può dare. Alcune modalità non le ho testate veramente a fondo, come per esempio la modalità, diciamo le lunghe esposizioni, non le ho provate tanto perché per fare lunghe esposizioni in questo periodo, l'ho avuto durante l'inverno, fondamentalmente ci sarebbe voluto un tempo di permanenza all'aperto e poi lo sviluppo della pellicola in un ambiente troppo freddo, quindi ho deciso finora di utilizzarla soltanto in studio, che poi è l'uso che faccio io principalmente in studio o comunque in location al chiuso, dove ho un controllo diciamo abbastanza serrato sulla luce, su come vengono posizionate le luci e sulla tipologia di inquadrature che posso ottenere. In futuro, quando magari la utilizzerò, adesso siamo a marzo, quindi comincia a fare un po' più caldino, quindi sicuramente appena avrò la possibilità uscirò di casa, scatterò altre fotografie in esterni e vi potrò dare un'opinione più dettagliata anche da questo punto di vista. Tuttavia, nonostante queste limitazioni nella recensione che vi vado a fare, penso di conoscere abbastanza questo mezzo per potervene parlare proprio a ragion veduta. A differenza, e qui voglio un pochettino rimarcare la cosa, a differenza di alcuni colleghi che il giorno dopo averla ricevuta già avevano fatto una recensione e non sto parlando di persone esperte come per esempio Alan, Alan Marcheselli, link da tutte le parti, ma altri, diciamo, non voglio fare nomi, che si sono prodigati a dire che questa macchina fosse meravigliosa oppure che fosse una ceofeca totale il giorno dopo e non puoi giudicare le cose in così poco tempo. Quindi andiamo con ordine e vediamo un po' come è fatta questa nuova i2, questa nuova fotocamera di Polaroid. Allora, partiamo con le caratteristiche principali di questa fotocamera e mi sto aiutando col telefono in modo da potervi mostrare anche dei dettagli perché saranno importanti nel proseguo della recensione. La prima cosa che si nota assolutamente di questa fotocamera è il grande occhio centrale, l'obiettivo, il cuore pulsante della nuova i2. È un obiettivo di dimensioni generose. Guardate in confronto alla Now Plus, ovviamente la parte dedicata alla lente, quanto è più grande, quanto è più luminosa, si vede addirittura l'apertura, ha tutto un sistema di autofocus, è tutto un altro mondo rispetto al passato per quanto riguarda le Polaroid contemporanee. La lente è in plastica, ma è in una plastica evidentemente molto molto buona perché produce delle immagini assolutamente eccellenti da un punto di vista della qualità. Io non sono un talebano che se non è vetro allora fa schifo, se non è vetro ma produce immagini come quella che produce questa macchina allora va bene. E già qui mi sono un po' sbilanciato nella descrizione un po' della qualità d'immagine, non solo. Il mirino, il mirino che è un mirino galileiano, ha una caratteristica straordinaria che è quella di avere una dimensione gigantesca, cioè sembra di guardare dentro un acquario. Questo perché attraverso un sistema di specchi la luce entra da questo obiettivo secondario che vedete è molto molto grande. Non è semplicemente un pezzettino di plastica messo davanti come era nella Now Plus o in tutte le altre polaroid diciamo un po' plasticose, ma è un vero e proprio obiettivo secondario. Sopra l'obiettivo ci sono i due sensori per l'autofocus. Da qua praticamente vengono sparati i segnali che permettono alla lente, alla macchina, di capire la distanza del soggetto e quindi mettere a fuoco. Dentro l'obiettivo, è difficile da farvelo vedere, ma c'è anche una cornice per la correzione del parallasse, cosa molto importante che manca ad esempio nelle altre fotocamere, ma che c'è in questo caso. E questo aiuta tantissimo con la composizione, perché considerando che non si tratta di una reflex, e quindi a differenza di come funziona con la SX70, dove io posso effettivamente vedere esattamente quello che c'è, quello che la macchina sta riprendendo, con questa macchina non vedo esattamente quello che vede la macchina, ma vedo attraverso quest'altro obiettivo. La cosa interessante è che il parallasse di fatto è il contrario rispetto a, per esempio, quello della Now Plus, perché in questo caso avevamo il mirino galleiano in alto a destra rispetto all'obiettivo, mentre in questo caso abbiamo un mirino in basso a destra. Quindi il movimento che dovete fare più o meno è quasi il contrario. Questa cosa, senza avere le guide all'interno del mirino, sarebbe stata molto difficile per me, perché ormai avevo l'abitudine ad utilizzare la Now Plus e passando questo avrei sbagliato un sacco di fotografie. Per fortuna c'è questo aiuto che funziona veramente molto bene. Abbiamo poi ovviamente il flash e il bottone di scatto, che è un pochettino brillante, non è un pezzo di plastica molto semplice come sulle Now Plus, ma è un pochettino matte, non so come dire, ha una resa un pochettino con una finitura migliore. Poi mi piace moltissimo il dettaglio dell'arcobaleno Polaroid, messo qui come una strisciolina, che è un richiamo ovviamente a quello che c'è anche sulle Now Plus, praticamente tutte le altre, però è molto delicato, molto piccolino. Poi l'altra cosa naturalmente importante di questa macchina sono le ghiere. Allora con queste ghiere noi possiamo modificare tutte le impostazioni, cerchiamo di metterlo in una posizione che non dia troppo fastidio, ok, queste ghiere possiamo modificare tutte le impostazioni, oppure andare a fare la compensazione, quindi a più due o meno due stop. Questa ghiera, ho notato, ha il piccolo difetto di essere abbastanza mobile, cioè si fa presto a spostarla. Di conseguenza quando la mettete dentro lo zaino, quando la mettete in una borsa, eccetera, quando poi la tirate ancora fuori, bisogna sempre un po' ricontrollare che effettivamente sia ancora sullo zero o sulla compensazione che voi avevate deciso precedentemente. Insomma bisogna sempre tenere un po' d'occhio. Questo è il primo dei difetti che ho trovato in questa macchina. Questa levetta è un po' troppo facile da muovere. Invece utilissima la ghiera principale, che è quella con cui si possono scegliere le aperture in priorità di diaframma, i tempi in priorità di tempi, o entrambi i valori nella modalità manuale. Un'altra cosa fondamentale, e che è veramente game changer, sono le porte, perché abbiamo una porta USB-C per la ricarica, e vabbè, anche quando la collegate la prima volta potrebbe chiedervi di aggiornare il firmware, ma poi c'è quel buchino che serve per attaccare il sincro flash. Cioè, io da qua posso far uscire un remote che va a controllarmi i flash, anche quelli professionali. Ora, avrei preferito un buchino di quelli un po' più grandi, adesso non mi ricordo più se è tipo tre quarti, un terzo, insomma, questo qui è il jack più piccolo possibile. Ok? Poi c'è quello delle cuffiette normali, che è quello che avrei voluto, poi c'è il jackone, quello che si infila magari in porte come quella, che però è abbastanza raro nelle macchine fotografiche. Ecco, se fosse stato quello intermedio sarebbe stato molto meglio, ma anche così sono riuscito a trovare un cavetto che andasse bene, che si collega perfettamente ai miei trigger remoti, e con quelli io posso comandare i flash. Questa cosa, come vedremo dalle fotografie che ho scattato, è assolutamente fondamentale per il mio modo di scattare, ma soprattutto se volete portare al next level la qualità d'immagine. Poi, con questi bottoni, possiamo ovviamente andarla ad accendere, e l'accendiamo. Ecco. Qui vi fa vedere che io sto sovresponendo di quando sposto la ghiera, mi dice, dovrebbe dirmi no, in realtà non me lo dice, di quanto sto spostando l'esposizione, e cliccando questo bottone rettangolare vado a cambiare le modalità, quindi passo per esempio esposizione multipla, clicco ancora, passo al timer, clicco ancora, passo alla modalità automatica, e allora qui sì che posso andare a utilizzare la compensazione, poi posso passare alla modalità priorità di apertura, e con la ghiera principale posso andare a cambiare i valori del mio deframma, e la macchina andrà a modificare il tempo di scatto per poter avere un'esposizione corretta, anche qui possiamo usare la compensazione per andare a correggere in più o in meno, seconda della scena che abbiamo davanti, poi abbiamo la modalità ovviamente shutter speed, che è esattamente il contrario ovviamente, dove posso andare a modificare la velocità di scatto, fino mi pare a un 250esimo, esatto, ma posso anche andare verso il basso, verso tempi molto più lenti, fino a che a un certo punto la macchina non deciderà che la luce è sufficiente per andare anche a chiudere il diaframma, ora qui nell'ambiente dove registro magari questa cosa potrebbe non succedere, perché non c'è tanto, ecco, ecco, qua ha cambiato, però vi assicuro che sul campo funziona assolutamente molto 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 bene. Poi abbiamo la modalità manuale, nella modalità manuale, come potete immaginare, posso scegliere sia i tempi che i diaframmi, come faccio a passare dai tempi ai diaframmi? Si schiaccia ancora questo pulsantino, e vedete che sono passato ai diaframmi, e quindi modificando la ghiera cambio i miei diaframmi. Cliccando ancora passo ai tempi. Se schiaccio ancora ulteriormente, passo alla modalità multi-exposure, che abbiamo già visto precedentemente. C'è poi il pulsante per escludere il flash. Se scattate in manuale il flash non scatta automaticamente, in tutte le altre modalità, per metterlo dovete cliccare. Cioè, se volete scattare col flash, dovete attivarlo. Questo è differente rispetto a come funziona in tutte le altre Polaroid. Tutte le altre Polaroid hanno il flash che praticamente c'è sempre, a meno che non lo andiate a disinserire. Mentre in questo caso è esattamente il contrario, lo dovete inserire nella modalità manuale. Bene, da un punto di vista poi estetico, abbiamo ovviamente l'apertura per inserire il film, il pack, e poi il secondo grande difetto di questa macchina. Che, bene o male che c'è, la filettatura per il treppiede, ma il problema è che è di plastica. È una plastica che ho potuto vedere abbastanza solida, è una buona plastica, tuttavia, nonetheless, è di plastica. Questa cosa non mi piace affatto, perché il mio timore è che non abbia una durata adeguata all'utilizzo che ne voglio fare io. Io scatto spesso sul treppiede, soprattutto appunto in esterna, quando voglio fare lunghe esposizioni, e questo genere di scatti. Quindi effettivamente il treppiede in plastica io l'avrei evitato, l'avrei rinforzato rendendolo di metallo. Il fondo, il fondo corsa, se vedete, è di metallo, cioè dove poi si va ad appoggiare il pirulino, ma la filettatura è di plastica, cosa che effettivamente non mi piace tantissimo. Da un punto di vista pratico, poi, è molto comoda, perché la macchina pesa poco più della Now Plus, poco più della SX-70, anzi forse pesa meno della SX-70, ma ha un'ergonomia molto molto buona. Cioè la mia mano, adesso la prendo con una mano, la mia mano fa presto a entrare in contatto con i pulsanti di scatto, e anche con una mano sola non faccio per niente fatica a guardare all'interno del mirino, dove tra l'altro, se vedete, in basso, e adesso mettere a fuoco sarà praticamente un'impresa, proviamoci, ecco, però se vedete lì in basso c'è tutto un riporto delle impostazioni della macchina, mi dice se ho abbastanza pellicole, la batteria, mi dice l'esposizione, la distanza di messa a fuoco, una serie di informazioni molto utili, per cui anche senza sollevare gli occhi dal mirino, una volta che ci hai preso la mano, puoi andare a modificare le varie impostazioni direttamente senza togliere lo sguardo e dover guardare il display. Questo display ha un altro piccolo difetto, che è quello che in pieno sole non si vede tantissimo, quindi imparare ad utilizzare bene il display interno è molto importante. e da qua vedete anche la cornice, ecco, la cornice per la compensazione del parallasse, che andrebbe applicata solo per soggetti piuttosto vicini, naturalmente, cioè se fotografate un paesaggio, il parallasse è quasi praticamente ininfluente, mentre invece, se fate un ritratto piuttosto ravvicinato, cercate di stare all'interno di quella cornice ulteriore, che vedete all'interno. Quel quadrato piccolino centrale, invece, è l'area di messa a fuoco, quindi la macchina mette a fuoco dove voi puntate con quel quadratino e se tenete, vedete che adesso mi sta dicendo che sono a 0,4 metri, in realtà siamo troppo vicini per la macchina fotografica, ma se voi tenete premuto a metà il pulsante di scatto, prima di scattare, potete mettere a fuoco e poi ricomporre. Quindi è possibile utilizzare la tecnica, diciamo, del focus and recompose, di vecchia reflexiana memoria, se vi ricordate, quando c'erano i primi sistemi autofocus, era un modo per mettere a fuoco il soggetto sull'occhio e poi ricomporre quando fai un ritratto o se devi mettere nei terzi l'intera figura e c'era soltanto la parte centrale dove si poteva mettere a fuoco, tu mettevi a fuoco, poi spostavi l'inquadratura e arrivavi ad avere la tua incontratura corretta perché il focus era, diciamo, bloccato e poi premia a fondo i pulsanti di scatto e la macchina scatta. Un'altra cosa che vi voglio far vedere è l'applicazione. L'applicazione è ottima. L'abbiamo già vista anche completamente per la recensione della Now Plus. L'applicazione è la stessa soltanto che qua adesso mi fa vedere tutte le Polaroid che ho collegate ma se io clicco sull'i2 ho tutte le varie modalità. quindi posso passare dall'autoscatto vediamo se riesco ecco qui c'è l'esposizione multipla modalità manuale io posso andare a spostare i valori e questi valori poi si ripropongono ovviamente sulla macchina adesso farò una fatica bestia a farvelo vedere vabbè fidatevi che quando cambio i valori sull'applicazione cambiano anche sulla macchina poi ovviamente possiamo mettere la priorità di autorazione la modalità auto la modalità priorità di esposizione vediamo se magari così si vede un po' meglio è un'applicazione un pochettino più sobria rispetto a quella della Now Plus che ha tutti quei colori e fa tutta una serie di cose con anche i led che compaiono qua davanti nella Now Plus però diciamo che funziona egregiamente come scatto remoto è perfetta quindi per esempio se fate lunghe esposizioni e non volete muovere la macchina questa qui è perfetta però mentre nella Now Plus è l'unico modo per avere effettivamente un controllo manuale della fotocamera in questo caso noi abbiamo i controlli manuali anche ovviamente sulla 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 macchina stessa quindi diciamo l'applicazione in questo caso è un po' meno utile è molto utile se volete appunto scattare da remoto se volete essere lontani dalla macchina e scattare comunque ma veniamo adesso a un aspetto ovviamente molto importante che è quello della qualità d'immagine ora parliamoci sinceramente fino ad oggi la miglior fotocamera Polaroid era la SX70 o la sua sorellona la SRL 680 che hanno un obiettivo di vetro e hanno la possibilità di mettere a fuoco molto da vicino ora la messa a fuoco da vicino della SX70 è migliore rispetto alla messa a fuoco da vicino della Polaroid i2 ok nel senso che posso andare più vicino con la SX70 poi c'è il fatto naturalmente che sulla SX70 essendo una reflex io vedo esattamente cosa vado a comporre sulla i2 devo essere un pochettino più bravo nella gestione del parallax ma abbiamo visto che la cornice interna un pochettino mi aiuta tuttavia da un punto di vista della qualità di immagine è praticamente impossibile distinguerle vi sembrerà strano vi sembrerà una lente di plastica questa lente produce delle immagini assolutamente nitide cioè c'è poco da dire per ovviamente per degli scatti che si imprimono su una pellicola Polaroid naturalmente non stiamo parlando di una pellicola con una risoluzione parlo della pellicola non della lente una risoluzione altissima e quindi il fatto che questa macchina sia in grado di dare questa sensazione di definizione persino su una pellicola a bassa risoluzione medio-bassa risoluzione come le Polaroid eccezionale ci sono un po' di cose da tenere a mente ma vi faccio vedere appunto alcuni esempi di fotografie che ho scattato perché secondo me vedendo le immagini ci rendiamo conto un pochettino di più allora partiamo subito per esempio in questo caso è un ritratto scusate tocco il microfono ma mi sposto un secondo ok questo ritratto è stato scattato con una luce led quindi non con un flash ma con una luce led proveniente dalla sinistra quindi in questa direzione e come vedete ovviamente anche il fatto che ci fosse questa luce attaccata alla parete che era semplicemente la luce che c'era in quella stanza accesa ha fatto sì che la resa fosse molto calda cioè il bilanciamento del bianco è stato abbastanza sbilanciato verso il caldo tuttavia vi invito a notare il fatto che questo ritratto è assolutamente nitido cioè ha una resa guardate negli occhi nelle sopracciglia le labbra i capelli come si vedono bene anche da più lontano quindi allontanandosi allo stesso modo la resa anche sul sul vestito stropicciato è assolutamente eccezionale qui un altro esempio che volevo portarvi mentre invece ecco questo per esempio è un difetto che ho notato questa qui è stata scattata invece con la SX70 vedete che sono riuscito ad andare più vicino vedete questa è SX70 e questa è la Now Plus vedete che con la SX70 sono riuscito ad andare più vicino ora la resa un po' strana è dovuta al fatto che la pellicola non era proprio freschissima ok però con la SX70 si può andare un filo più vicino ecco ha questa caratteristica volevo farvelo vedere giusto perché possiate capire un pochettino la differenza qui abbiamo praticamente la stessa posa SX70 a destra e i2 a sinistra anche qui diciamo la distanza è più o meno simile SX70 a destra e la i2 a sinistra vedete posso andare un po' più vicino da un punto di vista di resa e di nitidezza la i2 vince ragazzi cioè è un dato di fatto non è che me lo sto inventando è quello che è poi però se utilizziamo se iniziamo a utilizzare dei flash e quindi delle iniziamo a utilizzare una luce con una capacità di saturare i colori veramente notevole quindi questo è un flash professionale montato su un softbox molto molto grande vedete che io utilizzando il flash esterno posso stabilire la luminosità dello sfondo posso stabilire la luminosità del soggetto ma soprattutto c'è un livello di dettaglio che purtroppo non riesco a mostrarvi fino in fondo perché l'iPhone stesso non si avvicina così tanto ma si vedono tutte le texture del melograno questo è un progetto che sto portando avanti un giorno ve ne parlerò però giusto per farvi vedere anche il fatto che posso mettere a fuoco su piani diversi molto con grande precisione quindi qui ho messo fuoco sugli occhi e il primo piano è molto sfocato ok ovviamente questa è fatta appositamente guardate la definizione dello sfondo come cade bene la luce come il fatto che io abbia scelto di avere questa vignettatura dovuta alla proprio la diffusione della luce tramite il softbox sia venuto veramente molto bene qui c'è un altro esempio con una una melanzana però è lo stesso concetto questa è la differenza per esempio tra mettere a fuoco sul frutto o sul o sugli occhi c'è proprio una grande differenza e lo sfocato è ottimo perché qui abbiamo un'apertura di f8 ecco una cosa che non vi ho detto che questa macchina ha un'apertura di f8 laddove la sx70 ha un'apertura di f11 quindi già io posso sfocare maggiormente con la i2 che per certi tipi di fotografia è davvero molto molto utile andiamo avanti in questo caso l'utilizzo del flash esterno purtroppo non posso farvi vedere tutto il set perché se no mi bannano il canale però l'utilizzo del flash esterno e in questo caso anche qui qui era ancora un softbox poi vi farò vedere cosa succede con il beauty dish ma con un softbox io sono riuscito a far vedere cosa c'era dietro la finestra sarebbe stata praticamente impossibile con qualunque altra fotocamera polaroid senza un flash esterno perché il flash della macchina avrebbe illuminato il soggetto e praticamente annichilito lo sfondo mentre in questo caso io posso dare un tempo di scatto e un'apertura tale per cui posso andare a vedere qualcosa dello sfondo che è esterno a una finestra e quindi sono contro luce qua fondamentalmente poi utilizzare il flash come luce di schiarita anche in questo caso per esempio e qui invece andiamo ancora di più sulla qualità estrema dovuta al beauty dish il beauty dish è una luce un pochettino più cruda rispetto a un short box ma cosa fa porta fuori tantissime texture tra cui tutte le sopracciglia della modella i capelli svolazzanti guardate come cade bene la luce e questa cosa è impossibile con qualunque altra polaroid di qui sopra anche qui beauty dish ha più tempo che mi permette di gestire la luminosità dello sfondo stessa cosa oppure e di questo posso farvi vedere solo questa immagine purtroppo posso creare situazioni drammatiche come questa quindi questo sfondo è lo stesso di questo cioè siamo esattamente nella stessa stanza rivolti nella stessa direzione dalla stessa distanza dallo sfondo ma in questo caso ovviamente giocando con i modificatori di luce si riesce a creare uno sfondo completamente nero poi qui mi è sfuggito un faretto che avevo aggiunto dietro però vedete lo sfondo completamente nero utilizzando questi guanti che comunque si riescono a vedere perfettamente sono riuscito a dare questa luce veramente particolare che sarebbe stata altrettanto impossibile con ogni altra polaroid qui invece questa quest'altra fotografia fatta con con gloria ve le porto perché a differenza di queste che sono realizzate con diciamo illuminatori professioni professionali da vari watt ok queste sono fatte con un flash diciamo cobra un tipico flash esterno da attaccare le macchine fotografiche sulla slitta in questo caso l'ho attaccata a un piccolissimo softbox che è quello che poi uso anzi no era proprio questo ombrellino in realtà era questo ombrellino qua quindi immaginate proprio una situazione molto semplice perché ero a casa di gloria che gentilmente mi ha ospitato per realizzare lo shooting quindi ombrellino flash diciamo base è un godox un buon flash ma non è una cosa galattica e vedete che effettivamente la caduta di luce magari non è perfetta perché quest'occhio è un po' più scuro eccetera però vedete che comunque il drappeggio le texture sulla sulla camicetta e sull'ananas ci sono tutte anche qui la messa a fuoco guardate per esempio in questo caso i carciofi come si vedono bene ogni singolo petalo del fiore del carciofo anche so che sembra un po' strano però mi ho fatto foto con dei carciofi quindi da un punto di vista della qualità dell'obiettivo assolutamente straordinario sono soddisfattissimo non pensavo che avremmo raggiunto questo questo livello e quindi possiamo dire che ad ora in poi la i2 diventa la mia go to camera perché in un solo corpo ho i vantaggi della SX70 con solo dei piccoli svantaggi che sono appunto la messa a fuoco scusatemi la messa a fuoco leggermente più distante alla minima distanza ok e il fatto che non è una reflex ma ci si fa il callo e ci si comporta di conseguenza e tutti i vantaggi della Oneplus cioè il fatto di avere la possibilità di usare l'applicazione è una macchina che non ha bisogno di batterie dentro alle pellicole ah una cosa che non vi ho detto è che questa fotocamera può gestire sia le pellicole 600 che le SX70 che le iType io scatto soltanto iType perché non hanno la batteria nel pacco e quindi non devo buttare via una batteria sprecare batteria buttare in giro inquinare ma tecnicamente si può scattare anche con le iType e con le 600 e con le SX70 e quando inserite il pacco dell'SX70 potete regolare e andare a dire sto usando il SX70 l'esposimetro sitara sui 160 ISO dell'SX70 invece che sui 600 delle pellicole 600 640 delle pellicole 600 ok quindi questa macchina è diventata in assoluto il mio attrezzo principale anzi probabilmente l'unico attrezzo dal momento che ho deciso di passare totalmente a Polaroid ora veniamo alla questione del costo perché questa macchina costa parecchio adesso in questo momento datemi un secondo che vado a vedere sul sito di Polaroid quanto costa polaroid.com anzi vi faccio pure vedere dallo screen andiamo su polaroid.com andiamo a vedere le instant cameras prendiamo la i2 e da sola costa 699.99 eurini quindi sono 700 euro li vale 700 euro? allora per l'utilizzo che ne faccio io assolutamente sì cioè dal momento che questo è diventato il mio unico strumento per la produzione di immagini per quelle che sono le mie fotografie sì vale 700 euro se siete appassionati di polaroid scattate anche in digitale ma volete avere la massima qualità possibile vale 600 euro se vi state avvicinando a polaroid assolutamente no non vale la pena per voi che non avete ancora ben imparato come utilizzare le pellicole soprattutto perché il trick di polaroid è nel materiale pellicola principalmente in quel caso lì io vi consiglierei ancora oggi di passare prima da una now plus perché comunque vi dà la possibilità di utilizzare il manuale con l'applicazione eccetera ma è nettamente più facile e soprattutto la now plus di seconda generazione andiamo a vedere dovrebbe costare eccolo qua decisamente meno con 149 euro addirittura se non vi interessa avere l'applicazione quindi usare soltanto la fotocamera la polaroid now costa 129 quindi effettivamente ci sono macchine entry level più facili ok ma da un punto di vista della qualità cioè se noi vediamo qualità costo forse avrebbero potuto limare un centinaio di euro ma devo dire che li ho spesi volentieri ero molto dubbioso quando l'ho acquistata ero assolutamente scettico ma mi devo assolutamente ricredere questa macchina è tendenzialmente una macchina davvero ottima ci sono dei piccoli difetti non solo dal punto di vista della costruzione come vi ho detto prima che sono che è per esempio l'attacco del tripod in plastica o per esempio la rotella della compensazione un po' troppo lasca ok ma anche per esempio il fatto che l'esposimetro è preciso ma come in altre macchine fotografiche della Polaroid non è esattamente through the lens ma viene preso qui in basso da un piccolissimo sensore quindi Polaroid dice che copre circa il 60% del fotogramma quindi si comporta un po' come un'esposizione centrale diciamo più o meno però anche lì basta davvero poco per far sballare un po' i valori soprattutto in scene che sono piuttosto complesse quindi scene con una grande gamma dinamica cosa che le pellicole Polaroid non sono in grado di registrare questo è un grossissimo problema non è un problema per chi conosce questo fatto ma per chi si avvicinano normalmente magari viene da Instax che hanno una resa piuttosto semplice in realtà anche se anche lì la gamma dinamica è abbastanza ridotta ma viene addirittura da digitale per non parlare di chi viene da digitale appunto cioè uno che si avvicina a Polaroid trova subito respingendo il fatto che non ci stanno dentro le scene nelle pellicole quindi questo non è tanto un difetto della macchina quanto una problematica della combo macchina più scena quindi bisogna sempre valutare molto molto bene la scena e eventualmente sovresporre sottesporre un pochettino per diciamo ottenere il massimo questa cosa la si può fare soltanto con l'esperienza quindi dal mio punto di vista partire da una Now Plus imparare bene la pellicola imparare bene come quando dove e perché scattare con Polaroid e poi passare a questa nel momento in cui si ha una mano un pochettino più solida forse è l'ideale tuttavia se avete soldi da spendere andate tranquilli cioè se non è un problema per voi sganciare 699 euro fatelo assolutamente è la migliore Polaroid contemporanea e qui lo dico e qui lo nego anche se il mio cuore da un punto di vista dell'affezione sarà sempre con Gwendalina la SX70 è anche meglio della SX70 bene che dire sono già parecchi minuti che vi sto parlando di questa fotocamera spero che abbiate apprezzato lo sforzo di provarla parecchio prima di poterne dare un giudizio diciamo definitivo farò sicuramente un addendum a questa recensione quando riuscirò a scattare in esterni se il video vi è piaciuto se vi è interessato se vi è stato utile potete iscrivervi mettere like a tutto quello che volete altrimenti in ogni caso vi voglio tantissimo bene e vi do un grandissimo abbraccione ci vediamo al prossimo video ciao ciao